Mi spiace purtroppo rilevare con estrema meraviglia che decisioni del genere da parte di Ceredi d'Italia avrebbero dovuto essere quantomeno preannunciate al Governo nazionale e parlamentare del territorio e non acquisirle attraverso una nota dalla stampa. Quanto riguarda il miliardo del decreto aiuti, qual è il miglior modo per investirli in questa situazione dove servono investimenti da tutte le parti? Infatti noi innanzitutto il miliardo abbiamo cercato di indirizzarlo sulla tutela del lavoro, della salute, dell'indotto e della salute. Abbiamo presentato un emendamento al decreto aiuti ter che non è stato poi sostenuto dalle altre forze politiche. Dopo i fatti di ieri il sindaco è stato molto chiaro sul piano politico per quanto riguarda questa avvertenza in particolare. C'è un sostegno, una vicinanza, una mediazione? Noi abbiamo l'unica speranza che abbiamo per dare sicurezza a questi lavoratori e l'ingresso dello Stato all'interno del cirurgico. E' lo Stato che si deve assumere la responsabilità ambientale, lavorativa e del risanamento e del rilancio eventualmente industriale, purché sia compatibile con la salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente. Penso che la pazienza ormai sia arrivata al limite. L'ennesimo comportamento scorretto di un'azienda che ha dimenticato che in questo momento è socia dello Stato e allora lo Stato deve con forza intervenire. Ecco perché il sindaco Melucci con rabbia ma anche tanta consapevolezza ha fatto quelle dichiarazioni. Il sindaco ha invitato il premier Meloni a venire a Taranto. Si hanno notizie nel partito rispetto a questo? No, non si hanno notizie. Io ho letto le dichiarazioni del sindaco e capisco la rabbia da un certo punto di vista, ma credo che queste problematiche vadano affrontate con una certa lucidità. Meno comunicati stampa, meno propaganda, meno populismo, più presenza sui dossier, più studio, più prospettiva rispetto ad una problematica industriale, ambientale, occupazionale di questo tipo.